Torniamo insieme qui a Radio Alfa con Daniele De Crescenzo che è fumettista, autore di Il Paladino dedicato a Vincenzo De Luca. Intanto Daniele ti porto i saluti del nostro amico Pino da Pastena. Grazie, grazie. Ciao Pino. Ricordiamo il Cetriotto 1111 102 per gli amici che appunto volessero magari soddisfare qualche curiosità rispetto al Paladino. Un'opera interessante, tra l'altro insomma sta andando a ruba e questo è sicuramente un consegno. Fortunatamente sì, fortunatamente sì, abbiamo avuto una reazione veramente entusiasta da parte del pubblico che ci ha stupito insomma anche se nel corso di tutti questi anni, nelle varie incarnazioni del personaggio del fumetto abbiamo già avuto un interessamento abbastanza alto verso queste pagine di fumetto che adesso sono raccolte in volume quindi siamo molto contenti. E ci auguriamo che insomma di ulteriori spunti di ispirazione De Luca. Ma lui li dà di continuo, lui li dà di continuo quindi anzi uno dei problemi è proprio essere scavalcati a volte dalla sua creatività perché per un autore di satira rimanere, essere scavalcati dal personaggio reale è a volte drammatico insomma. Però insomma al di là del sorriso che inevitabilmente tutto ciò insomma ci scatena, va detto che il fumetto in questo caso si trasforma come l'occasione, lo strumento per fare satira, per parlare del politico, per parlare anche della politica ai tempi nostri. Sì, è una delle cose interessanti insomma di aver racchiuso insomma queste vignette in un volume e anche il fatto che mettendo tutto insieme emerge uno spaccato di quello che è il nostro periodo storico, di quello che stiamo vivendo, di politici che diventano parodie di loro stessi insomma quindi che escono dal loro ruolo, assumono ognuno di loro insomma a seconda del caso specifico, una connotazione che niente ha dell'amministratore né locale né nazionale insomma quindi nel loro caso fanno delle cose che non dovrebbero fare oppure assumono dei toni che sono incompatibili a solo alcuni anni fa a quello che è il ruolo istituzionale. Quindi un autore di satira nel momento in cui viene scavalcato dai personaggi, dalle persone reali significa che c'è qualcosa che non va nella politica, nella nostra politica, nell'atteggiamento dei politici verso i cittadini perché se si diventa delle star mediatiche piuttosto che degli amministratori significa che si è sbagliato. Io rifletto sempre sul fatto che molti politici sono semplicemente delle persone che non sono riuscite a entrare nel mondo dello spettacolo quindi sono il fatto che il mondo dello spettacolo sia meritocratico in qualche modo ci rimbalza nel mondo politico una marea di persone che non dovrebbero starci quindi e che vogliono prendere un altro tipo di platea, ecco assumono un altro tipo di platea facendo magari a volte anche dei danni molto più grandi di quelle che farebbero a teatro o al ma purtroppo. Un'altra domanda dove lo si trova il paladino? Il paladino è disponibile a Palazzo Santa Lucia no? No, è disponibile in questo momento su tutti gli store online principali quindi tranquillamente si può ordinare ovunque, è disponibile in tutte le librerie o a livello fisico su ordinazione quindi tranquillamente si trova a cultura edizioni ha fatto la distribuzione nazionale quindi si trova su tutto il territorio nazionale. Statenese Crescenzo rimane ancora con noi intanto a Radio Alfa l'appuntamento con Meteo e Viabilità.